Ciao ragazzi, sono Annelo da Roscella Mare, specializzato in veste e festini, con gli altri giratini tra ex e alunni, scena in classe a guardarci male ai cucani, spettacoli di intrattenimento a parte di gruppo, giochi della bottiglia, se la bottiglia la bocca di voi, e in generale tutto quello che riguarda lo sballare, divertimento, si, si, lo sballare, la parola magica che potete pronunciare se volete divertimento targato Torricella Mare, il mio ultimo grande successo, lo riesco in grande tour per tutto il mese di ottobre, la prima e l'unica regola è il sballare! Venite a vedere perché! Grazie a tutti!